Bene, buonasera a tutti a nome dei circolocodiense, benvenuti alla quindicesima edizione del torneo internazionale di scacchi in città di Chioggia, molto numerosi dopo l'interruzione forzata di due anni. Bene, siamo un po' in ritardo quindi andrò molto rapido, giusto, just a short, welcome to our foreign guests, a very well welcome to people coming from the Netherlands, Moldova, Bosnia, Austria and I hope I didn't forget anyone. Ok, bene, come vi ho detto sarò molto breve, passo la parola all'assessore Tiozzo Massimiliano rappresentante del comune di Chioggia che ci ha gentilmente concesso il patrocinio per questa manifestazione. Grazie, cerco di essere anch'io super breve per non rubare tempo a questa nostra iniziativa e il mio è solamente un ringraziamento a tutti voi per aver ripreso questa importante iniziativa, la ringrazio anche perché aver portato a Chioggia persone di fuori, insomma per questo momento, ci dà la possibilità di far conoscere ancora una volta la nostra città. Mi spiace che la trovate grigia, è un po' piovosa, qualche giorno fa era ancora nel pieno dell'estate, però confido che se rimanete nel weekend potrete godervela con un po' di più di sole. Il mio ringraziamento appunto al circolo per aver ripreso dopo gli anni della pandemia, lo faccio a nome del sindaco, dell'assessore vice sindaco Daniele Tiozzo che vuole sostenere questa iniziativa e anche il futuro, vogliamo essere a vostro fianco per darvi la possibilità di continuare questa fortunata tradizione. Un in bocca al lupo a tutti i partecipanti, in particolare ai più giovani, conservate questa passione e cercate di dare il vostro meglio come ogni giorno. Grazie e buona partita. Prima di cominciare, come da tradizione, al nostro ospite facciamo fare la prima mossa sulla scacchiere. Ci muoviamo. Eccoli qua. Sì, sì, sì. La prima mossa te la posso fare? Dalle seconde in poi meglio in garage. Bocca al lupo. Bocca al lupo.